ok ragazzi bentornati a tutti e bentornati a me che mi ero preso una pausa allora eccoci qua sai cosa facciamo adesso adesso andiamo a proseguire gli un'impresa quella del fucile me la fate segnare e facciamo spazio segniamo questa che ci serve il progresso benissimo adesso andiamo a mettere anche il più uno ah no è solo il manufatto che lo andiamo a fare un secondo 30 30 via facciamo spazio e andiamo a fare una bella azzardata andiamo a fare azzardo però prima devo passare dal ramingo a prendere un po di cose teniamo questo questo è automatico si vanno bene vanno bene no no è vero che cavolo sto dicendo questo devo fare quello è bello ragazzi questo qui via mi occupa solo spazio niente ragazzi via si va andiamo dal ramingo prendiamo le taglie e andiamo a buttarci in azzardo ah ok è vero devo attivare alcune cose che fanno comodo intanto tenerli lì occupano solo spazio come questo uso e nient'altro avevo già consumato tutto bene adesso se ne pezzi di qui per sempre se ne trovano molti di più quando si sbloccano le varie cose basta fare anche colpi precisi non sempre ma te li da spesso quindi non mancano mai adesso sono fermo alla missione comunque su europa del quella del della dell'armatura devo mettere le armature nuove li che si trovano lì in giro i vari pezzi e andare a affrontare quello che vi dicevo nei settori perduti almeno la prima parte poi non so la seconda che sarebbe la seconda e la terza perché prima non mi chiedeva niente di armature su e si è bloccato lì forza tutto che si sta aggiornando di fatti sono senza l'altro schermo adesso dammi tutte le taglie come va la meraviglia quelle ne abbiamo già no spero che abbiamo consumato troppo respirazione azzardo è già stato fatto cosa mi manca però vabbè potremmo provare ma chi se ne frega se andiamo lo stesso solo più quello vabbè andiamo vediamo se conta qualcosa non lo so forse si vedremo vediamo anche quanto va per le lunghe perché questo fucile mi piace ma fino a un certo punto bisogna vedere come questo è il rateo di fuoco troppo lento non mi piace tra un colpo e l'altro ci sono quei centesimi che mi fanno perdere tempo non mi piace comunque adesso speriamo di trovare subito la squadra si benissimo ok siamo quasi allora 1240 2,60 il cap mi sembra dovrei partecipare un po al crogioro ma ultimamente non ho proprio voglia il crogioro non ho sentito dire che da quando c'è la stasi non l'ho proprio provato eh io non ho avuto neanche la curiosità che c'è da quando c'è la stasi è tutto un tutto congelato praticamente allora non si può quando sei congelato sei fregato ma da quello che ho capito quindi non lo so può essere solo frustrante devo provare devo provare però per adesso andiamo ad azzardo tanto devo riuscire secondo l'impresa devo anche andare a beccare qualche guardiano quindi prima o poi crogiolo è quello che fai prima sì difatti non fate neanche uno guardiano sconfitti zero vabbè devo colpirli normalmente devo colpirli con lo slug che c'è solo quando miri quando prendi la mira cambia tipo di attacco andiamo ok ballerini balliamo cosa c'è sul menù vex in arrivo è una persecuzione dei vex hai mai ucciso un vex ma ucciso sul serio non sono convinto che non vengano preparatevi al trasferimento dai forza uccidi i nemici prendi le particelle e deposita le nella banca rivedo si ma non li centro non è finito vediamo un poco questa ricordiamoci di slaggarli bene vedi i colpi recuperiamo tutto ok quante ne ho dieci dai rimandiamo uno medio prima le munizioni ce le arrabbano altrimenti è giù assediante medio rilasciato ah presa vai un colpo solo mi è rimasto usiamolo bene no non riusciamo a usarlo bene guardala ah altri ma solo solo sei spostiamoci prima alla trivella allora velocissimi mi sta arrivando qualcosa no bene un secondo che sentivo basso sto qua giocando con le con il volume mamma mia quello sei duro fammi andare qua mia depositiamo ok quello è ancora intero quello mai più però ok dove siete malefici guardali cavolo no mi sa che mi ha trovato lui vero no c'era quell'altro lì sotto ora quanti ne ho persi perché adesso è più 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 concentrato azzardo no morto ok via questo ancora troppo prendi tutto bene ce n'era ancora uno ma sei andato a rasconderti ok no 11 spediamogli qualcosa ok solo medi però ci mancava solo quello vabbè munizioni pesanti cavolo no non me ne ero accorto ma fregato ho perso di nuovo ma fregato non c'è più lo prenderai la prossima ondata in arrivo alla trivella malefico invasore allora ok vabbè si è ricaricato vabbè vai tu io ce n'ho già un po' bello così va bene però ok questo non lo raccogli quello non lo voleva raccogliere no l'ho visto alla fine davvero peccato andiamo a depositare e forse arriviamo subito il mio l'ha messo nel vuoto ok cavolo è intanto teniamo questo arrivace no dove sei ok buono così oh 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 No, di nuovo Non so dov'è Non riesco a vederlo Ho visto le munizioni pesanti, eh però Bene, così Dai No, chi ha fatto? Per poco però, eh, per poco Ma lo vedo sempre male Ok, vediamo un attimo Solo se... di cosa è salito Beh, non mi sono comportato poi così male Io però potevo fare molto meglio Dovrei giocare più spesso Azzardo Per migliorare un po' Ok, recuperiamo un po' di roba Ah, 13 Mamma mia, non sale mai più Era 12 prima Solo se vinci dovrebbe dare qualche punto in più E poi bisogna ammazzare Ah, usciamo Ci va troppo tempo E niente, va bene ragazzi Qua ci salutiamo Facciamo così Ho voluto provare appunto E giusto una partitina veloce Niente, grazie di essere rimasti con me E alla prossima Ciao a tutti